realizziamo la sagoma del nostro pipistrello su un foglio di carta bianco, c'è la sagoma quindi la sistemiamo ups c'è una gattina che vuole collaborare la sistemiamo quindi eccola qui e con delle forbici lo andiamo a ridagliare tutta volta nel contorno a questo punto andiamo a prendere un foglio di gomma di gomma krebla questa qui è praticamente un foglio di gomma morbida vedete voi potete prendere anche un cartoncino quello che avete in casa io ho questo e volevo provare con questa quindi la stendiamo e andiamo a ricalcarci tutti i nostri pipistrelli quanti ne vengono quindi appoggiamo il nostro pipistrello e andiamo a ricalcarlo con la matita una volta realizzate le nostre sagome andiamo ad inserire dietro un pezzettino di patta fix ovvero questa qui che sarebbe della gomma della gomma morbida che attacca su tutte le superfici e non rovina nulla a questo punto li mettiamo da parte i nostri pipistrelli e andiamo a fare il secondo progetto per il quale ci servirà della colla a caldo, la pistola, il patta fix una cartellina trasparente di queste e un disegno di una ragnatela il quale andremo ad inserire all'interno della nostra cartellina e con la colla a caldo andremo a ricalcare in modo che venga questo qui poi semplicemente lo stacchiamo e quello che otteniamo è questo qua quindi la nostra ragnatela andiamo a inserire dietro la ragnatela anche qui un pezzetto di patta fix in modo che non si noti tantissimo da lontano vedete e mettiamo da parte anche questi per attaccarli sulla nostra porta o sulla nostra finestra perché non è andata e e e e e e e